Sindaco Carancini, l'emergenza neve a quanto pare sta rientrando, se non meno a livello climatico, il Comune ritrova un po' la normale regolarità della situazione, come state affrontando la situazione in questi momenti? Diciamo che la tregua dei 24-36 ore ci ha consentito ieri di programmare una seconda fase, dopo quella del fronteggiare le nevicate e gli eventi, ora si tratta di affinare, quindi rendere ad asfalto le strade e soprattutto cominciare a rimuovere la neve che è moltissima delle varie vie della città. Intanto oggi abbiamo svolto questo lavoro proprio di miglioramento della sede stradale su molte vie cittadine, ad oggi probabilmente su molte delle principali, se non tutte, e comunque in queste ore stiamo completando, è stata rimossa la neve e anche il ghiaccio da moltissime di esse. Abbiamo oggi fatto iniziato, comunque le ultime indicazioni che mi vengono finite dai tecnici, abbiamo anche riscontri che stiamo completando la pulizia e la messa in sicurezza delle scuole, di modo che venerdì i ragazzi che dovrebbero tornare a scuola possono accedervi in totale sicurezza. L'altra grande operazione che abbiamo pianificato è per stasera, a partire dalle 21, rimuoveremo tutta la neve da Corso Cavourre e Corso Cairoli. Quindi si sta avviando piano piano e compatibilmente con le risorse, anche con gli impegni di lavoro che stanno svolgendo, le ditte che lavorano per noi, un altro pezzo importante della pulizia della città. È chiaro che lo stiamo facendo compatibilmente con le nostre forze, ma mi pare che complessivamente il risultato non sia negativo, anzi abbastanza positivo.